eccoci qua ben ritrovati buona domenica come sempre per chi ci segue in prima battuta e con grande piacere ritroviamo fausto carotenuto ciao fausto ciao a tutti ciao torniamo a parlare un po di vaticano poi magari il discorso non sappiamo neanche noi dove ci porterà come questo delle nostre chiacchierate però insomma ti ho molto pensato in questi giorni perché quella famosa lotta di potere tra le correnti che da sempre si battono e lottano in vaticano probabilmente in questi giorni hanno avuto insomma di che combattere addirittura mettendo nel circuito mediatico la storia che riguardava anche papà wetila giovanni paolo secondo addirittura insomma delle sue attività diciamo extra religiose con le quali si sarebbe dilettato il tutto sempre con emmanuela orlandi il caso orlandi sullo sfondo che sta succedendo ma ne abbiamo già parlato nel senso che vediamolo un po più in grande cioè il vaticano è uno dei punti focali dell'attuale impero oscuro mondiale che dipende come dico sempre discende diciamo come forme pensiero come gregora proprio dall'impero romano che si impossessò della chiesa ma che poi costruì come gregora dico i vari imperi gli imperi e anche dei dei barbari dopo un po che divennero tutti cristiani e poi l'impero spagnolo quello francese quello anglosassone tutti replicano e anche replicano in fondo la forma pensiero dell'impero romano che è un egregora che un essere spirituale oscuro e per il quale roma rimane un punto focale roma è il contrario di amor è stata fatta apposta per costruire un grande ostacolo alla crescita umana diramandosi in tutto il mondo e questo ostacolo avrebbe fatto sì che noi guardando l'ostacolo guardando il male prendessimo un'altra strada questa è la storia dell'umanità e quindi siccome ancora la stiamo prendendo sta strada e l'egregora è molto attiva attiva in tutto il mondo con i suoi addentellati l'impero anglo americano la parte russa perché no tutti quanti nel grande gioco del divide d'impera quindi quando finiamo in vaticano ci abbiamo il gioco del divide d'impera del quale io parlo da anni cioè bisogna avere sempre almeno due grandi correnti che si scontrano e in vaticano ne abbiamo già parlato molte volte di questo aspetto e ultimamente dicevo se ve lo ricordate c'è un riequilibrio di correnti ma il riequilibrio significa lotta dopo gli anni di Voitila in cui non è stante le pressioni i condizionamenti la corrente curiale alleata a quella conservatrice di Voitila di Ratzinger e di altri prese il controllo controllo totale per anni appoggiandosi molto su gruppi come i ragionari di Cristo diretti da un pedofilo noto e l'opus dei comunione liberazione dipendente l'opus dei cioè noi abbiamo visto in tutto il mondo che questi avevano preso tutto lo York quelli i governi alimentati da loro e i governi alimentati da loro sono i momenti noi abbiamo avuto anche le sinistre ma soprattutto le destre al potere ma anche le sinistre influenzate da quella corrente poi c'è stato il grande colpo di stato gesuita quindi i gesuiti sono riusciti a portare dalla parte loro una parte importante della curia che è slittata no dall'appoggio ai conservatori all'appoggio alla parte gesuita con una serie di di problemi di rivolgimenti di ricatti enormi tra cui molto probabilmente questo ricatto del quale faceva parte la orlandi è stata messa sotto la corrente una corrente conservatrice il cui capo dal punto di vista religioso diciamo poi ce ne sono anche altri era Voitila in quel momento e poi dopo Ratzinger però un po' alla volta ricatto ha funzionato come un cancro ha condizionato in parte il papato di Voitila pressoché totalmente il papato di Ratzinger fino a dire ragazzo sei anziano e malato ma non stava tanto male e a farlo tirare e fare posto al nuovo equilibrio come era già pronto e quindi però adesso dopo questi lunghi anni di dominio pressoché totale delle correnti gesuitiche alleate alle correnti curiali c'è un riequilibrio ed è evidente l'evidenza è in quello che succede nel mondo in Italia succede subito nel senso che l'Italia è proprio il dominio più diretto del Vaticano da sempre quando tu vedi il il discepolo del cardinale del segretario di stato che diventa presidenza del consiglio è un'alleanza con i gesuiti nel senso che nello stesso 5 stelle c'era una corrente gesuita e una corrente curiale però già corrente curiale ancora abbastanza forte da avere il presidente del consiglio poi arriva Draghi e qui siamo direttamente nella corrente gesuita le cose cambiano comincia ad esserci una lite all'interno della curia e del Vaticano e quindi la corrente curiale troppo schiacciata da questi prepotenti gesuiti comincia ad agitarsi e guarda un po' Draghi non ha vita falice in fondo si arrangia ancora un po' perché c'è il covid perché c'è l'emergenza ma poi è pronto il nuovo equilibrio e il nuovo equilibrio è un equilibrio che torna per la curia ad appoggiare la corrente conservatrice però sempre condizionata non può rompere le scatole troppo perché c'è troppi scheretti nell'armadio qui diciamo io vedo una risalita della curia classica no quella che una volta erano le famiglie patrizia romane e che in parte lo sono ancora il vecchio potere di Roma ormai allargato in tutto il mondo come una piovra che si fa rispettare e quindi girano ricatti incrociati cioè non è cambiato molto dai da quando si facevano le congiure a Roma dei tronvirati che poi si spaccavano uno contro l'altro Pompeo Cesare Crasso non è cambiato dalle compravendite durante i conclavi medievali o rinascimentali no non è cambiato non sono cambiati manco i vizi Roma è sempre stata considerata dai mistici la Babilonia ma non è che è cambiata ha esercitato un principio di autorità religioso per chi se lo teneva e poi però il cielo ha voluto che mostrasse sempre di più le proprie debolezze questo l'ha voluto il cielo perché si smontasse da chiesa si sta smontando le chiese si svuotano rimane la simpatia rimane la mancanza di altro soprattutto ma molta gente preferisce la mancanza di altro ad essere incasellata all'interno di strutture nelle quali sono anche predi buoni e suore perché no sempre di meno ma sono sempre più dominate evidentemente in maniera evidente una volta non era così da autentici gruppi bande armate armate di tutto armate di ricatti piene di corruzione piene di vizi come è sempre stato solo che adesso il cielo vuole che si vedano così ce ne scappiamo un po' di più e questo lo stiamo vedendo insomma volevo chiederti quindi quando escono rivelazioni di questo tipo c'è una pace escono queste storie su giovanni paolo secondo anche il papa attuale che sembra indignato che deve dire quello che ha detto però in realtà è un messaggio che manda la sua corrente all'altra io direi che chi sta lavorando molto è la curia la parte centrale diciamo che vuole un riequilibrio per riacquistare poteri qui diciamo che ricatta di qua e di là diciamo che sta mettendo anche il papato un po un po all'angolo però pur di mantenere il potere il papato gesuita deve comunque reagire a quello che avviene in fondo gli attacchi sono alla corrente avversaria e quindi e quindi fanno piacere quindi che uno dice ecco non si dicono queste cose che quello lì è così è così e lo stai dicendo ma questo da che si vede si vede dal mainstream mediatico che non è silente la sette le trasmissioni di atlantide che vanno abbastanza a fondo fino a un certo punto ovviamente però io ho visto delle interviste lunghissime a orlandia ad altri ripetute 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 che e insistevano ma sarà vero che questo era così che vuoi dire così e gli altri così e così in altra volta ma sarà vero ma tu c'hai le prove io l'ho detto in vaticano ma sarà vero cioè il tema è diventato che tanta gente diceva sì ma quello era così tu vuoi sapere se era vero sì mi piacerebbe è certo ma lo ritengo plausibile perché no era un bell'uomo attore pieno di vigore quando succedono i fatti dell'orlandi lui era già stato ferito no eppure se no ho visto un suo filmato che stava parlando in sud america non so i sandinisti che lo contestano e lui fa silenzio fortissimo e insomma tutta sta forza la devi pure sfogare chi lo sa non lo so vediamo però ecco non ci illudiamo che il mantenere i preti che non si sposa non sia in fondo mantenerli viziosi almeno in buona parte così li controlli meglio o no sì assolutamente l'immagine chiaramente di giovanni paolo secondo quando quello che l'immagine che almeno quello che rimane nella mente di tutti chiaramente solo l'ultima parte cioè quando erano ormai sono andato e quindi no quell'aria di papa che è entrato nel cuore di tutti e in realtà poi si dimentica facilmente invece quando era bello arzillo bello attivo e quello che aveva combinato era iper arzillo e ogni volta che si scava si trova che lui prese tutte le risorse del vaticano accetto anche quella della mafia anche quelle di escobar di tutti purché lo iore avesse abbastanza soldi per fare la rivoluzione in polonia contro contro i russi e quindi e quindi immagina quante forze appoggiarono questa cosa la nascosero sapendo però che gli armadi si riempiono di prove insomma che al momento opportuno servono anche a cambiare papà però in quel momento l'obiettivo era far fuori l'unione sovietica e nel far fuori l'unione sovietica c'erano anche gli alleati tipo Gorbaciov e il KGB da cui veniva Gorbaciov in pratica come funzionario addetto da Andropov no funzionario del partito figlio della bestia come lo chiamo io era il pupillo di Andropov soprannominato la bestia capo dei servizi segreti quando riesce a fare un colpo di stato Andropov e a diventare segretario del KUS prende Gorbaciov e lo mette a fare il capo del personale del partito per fare che per piazzare tutti i uomini del KGB nei posti importanti e arrivare alla alla caduta del muro quindi la caduta del muro è stata facilitata dalle pressioni di Voitila da tutto un contesto occidentale e da un contesto orientale che ha già deciso di tradire la russia e che poi è stato ben ripagato perché da allora è il KGB che domina la russia cambiando nome e i suoi capi sono diventati i litchi oligarchi che adesso sono gli oligarchi di putin e uno ci ha preso pure il nobel per la pace per fare sto capolavoro e si chiama Gorbaciov quando danno i nobel per la pace Obama eccetera bisogna un attimo guardare a chi sono e poi che combinano qui diciamo è all'interno di un fronte molto più vasto quello che è successo è più ampio però il vaticano insisto mantiene è una delle chiavi fondamentali di questo ci dimentichiamo sempre perché li vediamo vestiti in questi buffi vestiti ma questi sono i vestiti di un vecchio potere io me li ricordo quando ero bambino ed ero lì al concilio a vedere i papi il papa a vedere tutti i vescovi in questa cosa io c'ero lì e me lo ricordo quando entrava il papa il papa entrava dal fondo il coro cantava a dieci voci il tu es petrus et super anketram petram edificab ecclesi a me tutti esultanti eccetera eccetera il papa sulla portantina tutta la nobiltà nera davanti vestita di nero con i collari del seicento i cardinali vestiti ancora come nel rinascimento era una scena di un potere che al di là del tempo e che si considera al di là del tempo e che ha un potere oscuro in fondo nei suoi vertici che al di là del tempo ce ne combina di tutti i colori e ora cominciamo a capirlo la cosa importante è che ormai il potere spirituale lo sta perdendo e anche a roma anche gli imperatori potevano mantenere il potere politico solamente se erano avevano il potere spirituale quindi erano legittimati al potere di questo ci siamo dimenticati nel materialismo ma continuato a funzionare così e quindi questa chiesa che sta perdendo l'autorità spirituale da un giorno all'altro crolla è già quasi è già praticamente svuotata l'attentato al papa quindi in questa chiave di lettura come come si può spiegare cioè lì a che spara e poi il personaggio che ne è stato ricavato con le sue rivelazioni spesso insomma che erano dei pistaggi altre volte avrà detto qualcosa di vero intanto invece di stare all'orgastolo sta a casa sua mi sembra la storia dei brigatisti rossi che hanno ravito morti invece di stare all'orgastolo stanno a casa e ci sono andati anche presto perché noi abbiamo una cultura che tratta umanamente le persone però nel frattempo sia quelli del bigate rosse sia questi qua sia questo accià ne hanno sparate di tutti i colori è come se fossero addetti al creare false piste e forse per questo poi non state all'orgastolo o non sono morti perché erano funzionali perché loro c'erano allora più di loro guardate quante false piste ha creato alica c'ha ora chiaramente se uno guarda la situazione di alia c'ha alia c'ha non è stato mandato a ferire voi tila perché gli ha sparato al bersaglio grosso gli ha sparato per uccidere e allora bisognerebbe chi aveva interesse a uccidere voi di là in quel momento chiaramente la corrente avversaria chiaramente poteva anche essere guardate poteva anche essere qualcuno veramente connesso al potere del partito comunista sovietico o a qualuna parte non c'è certamente non il kgb perché kgb favori favori la trasformazione e quindi è possibile quello ma i fronti trasversali sono molto grandi il fronte del cus aveva sicuramente all'interno dello stesso vaticano qualcuno alleato che contava più del partito comunista sovietico quindi lotta tra correnti in genere i papi sono sempre morti ma tante volte sono morti spesso avvelenati proprio perché era una corrente interna che ha ammazzato il papa dall'esterno quasi mai che cosa è il cus che non me lo ricordo il cus è il partito comunista dell'unione sovietica era il partito unico ma dire il partito comunista cinese direi ancora più forte e ancora più cioè il chi comandava era il segretario del partito in unione sovietica questa ecco poi c'è infiltrato dal kgb totalmente attraverso gorbaciov e poi c'è appunto il il sequestro di emanuela orlandi c'è anche un'altra ragazza che scompare miglia gregori sempre insomma lì nella nella ti chiedo se secondo te cioè doveva essere solo un sequestro o che la cosa poi diciamo si è trasformata strada facendo fin dall'inizio e questa ragazza doveva sparire premesso che come sai ne abbiamo forse già parlato mi pare tu avessi detto che il documento è stato mostrato da fitti impari da fitti palli in una inchiesta cioè che la ragazza sarebbe stata mantenuta dal vaticano quasi fino al 2000 tenuta segretamente in inghilterra era un documento non veritiero non ci credo secondo me un'altra falsa pista ok purtroppo di queste false viste sono oggi perché la dovevano mantenere se era un imbarazzo perché questi sono dei disgraziati adesso allora la cosa è ancora peggio come mi pare di aver raccontato no sabrina minardi ha raccontato la storia ma sembra non credibile per com'è no lei l'ha accompagnata in vaticano l'ha consegnata un monsignore no allora secondo me è più semplice più terribile in fondo ancora la vicenda cioè i ricattati per essere sicuri che la cosa non venisse fuori volevano vedere avere nel romolo mani l'orlandi e forse anche l'altra ragazza e forse chissà quante altre perché quell'anno come dice il giudice che se ne è occupato a suo tempo sparire un sacco di ragazze a roma e non si sa che fine hanno fatto quindi quella d'orlandi è diventata più forte perché lei stava in vaticano e quindi c'erano un'attenzione enorme ma altre sono sparite così allora il ricatto se io sono ricattato e sono un fedente diciamo no la corrente marcinkus e compagni no il ricatto è fondato su questo e su le altre cose ma questa è la più bruciante se io sono ricattato e sono un fedente sto d'accordo con la mafia con quello quell'altro quindi per me il fine giustifica i mezzi e mi dicono guarda tu lui dice ma io come faccio ad essere sicuro che questo ricatto non viene fuori ti do la ragazza poi fanne quello che ti pare ti do le ragazze poi fanne quello che ti pare e fanno quello che ti pare non lo metto a pensioni a londra scusate come ha detto la minardi chiedis de pedis e c'erano degli scavi bisogna fare delle fondamenta in cemento mi pare a torvaianica e lista e chi la trova più è chiaro che deve andare questa è un'altra falsa pista così come qualcuno si è divertito a scrivere quel documento 70 milioni i dati a cosa avere quattro milioni adesso al povero al povero pietro gli hanno dato anche uno scambio di lettere tra poletti e l'arcivesco di canterbury ma questo l'arcivesco di canterbury non è sulle stesse posizioni proprio del vaticano e quindi che fossero complici nel tenere la orlandi a londra mi pare proprio una balla di quelle spaziali poi tutto è possibile non dico che sia assurdo mi dico che non è logico non è proprio logico quindi per diciamo capire ragazze abusate e qualcuna di loro magari voleva parlare e quindi si poteva parlare si poteva escludere che dopo un anno o due anni non parlava nessuno cioè addirittura io dico che le avrebbero uccise comunque perché quanti minori spariscono tantissimo anche poi da grandi parlano quelli che no di questo fenomeno avete parlato anche voi no quanti bambini quanti minori quanti quante ragazze spariscono e perché spariscono purtroppo è enorme questa cosa e non viene mai indagata a sufficienza perché gli stessi che organizzano queste cose organizzano anche i governi i servizi segreti e le forze di sicurezza e già è proprio quel l'inghippo purtroppo e quindi è interessante cioè la orlandi se ne parla di più perché è una cittadina vaticana e poi chiaramente su questa scomparsa si inseriscono una serie di pistaggi e di dinamiche va e ricatti vari di tutti i tipi sì anche quelli teleguidati per forza no io ricatto faccio pressioni tu non mi rispondi io ti chiama quello chi l'ha visto bim bomba su giù la cosa si è un po addormentata non mi state promuovendo cardinale chi dico io non mi state nominando lo yorki dico io no c'è un momento che benedetto sedicesimo si sbaglia e dice una cosa in più anzi io dico in fondo potrebbe essere già una prova di questo ricatto molto strana però potrebbe essere il fatto di tenere comunque Voitila vivo anche se non ragionava più anche se era mezzo morto perché con un papa così forte che diventa debole tu cominci a infiltrare la sua struttura sempre più fortemente se nella sua struttura ci sono dei ricattati hai fatto perché quel papa così forte non li controlla più ecco tu sei chiaramente un fine conoscitore anche di certe dinamiche le tele le varie telefonate di su cui tanto no si è parlato anche recentemente sono state fatte anche delle analisi la comparazione delle voci eccetera eccetera la prima mi interessava sapere la modalità di queste comunicazioni immagino tu le abbia ascoltate insomma l'americano quello che si faceva chiamare mario che tipo di linguaggio ti dice qual era la finalità depistare integralmente la finalità era era depistare ma tenere alta l'attenzione non si doveva dimenticare a sta storia se noi ricatto non era sui giornali ricatto doveva essere sui giornali quindi l'obiettivo era fare in modo che i parenti il fratello chiunque ne parlasse ne parlasse ne parlasse ne parlasse la gente venisse in modo che c'era un'attenzione per anni dell'opinione pubblica che quando rallentava veniva ritirata su e quindi i messaggi di quelli che sembrano quattro scemi che telefonano erano sempre attentamente studiati da chi gli faceva dire parola per parola e l'americano che immagina le no l'americano perché americano qua la misteri cose bimbo no ecco poi a proposito telefonate uno strano personaggio si inserisce in questa vicenda qualche anno fa l'abbiamo anche intervistato sette otto anni fa cioè ma marco si chiama di marco accetti che dice sono io uno dei telefonisti addirittura fa ritrovare un flauto che la famiglia dice era il flauto di emmanuela ecco questo inserimento come come lo valuti eh lo valuto come un depistatore probabilmente era vero quello che diceva lui che era uno di quelli che telefonava forse anche l'americano no perché lui questo era il suo mestiere questo era un uomo di mano c'è quella vicenda strana con quel povero bambino no figlio di un diplomatico mi pare colombiano che 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 lui investe nella fineata di castello fusano ragazzi cioè che poi lui ha detto anche tante cose su di sé su cose cui lui ha partecipato ma per quale cacchio di motivo lo sta in galera su per quale motivo no a questo sta tranquillo tira fuori il flauto il flauto viene riconosciuto vero e lui sta tranquillo lui serve solo è un depistatore protetto ma lui sa come sono andate le cose no perché questi non sanno questi svolgono solo il loro mestiere vengono pagati o vengono anche non mandati in galera e quindi continuano a fare il loro mestiere come i brigadisti che non dicono nulla quei pochi che sanno due tre non di più che cosa è successo nell'affare morto e grazie sono usciti tutti di galera compensati tranquillizzati con la minaccia guarda diventati in galera e un giorno ti prendi anche un caffè di quelli alla sindone insomma e secondo te per quanto tempo questa vicenda potrebbe essere stiracchiata ancora cioè all'infinito fino a che non sono morti tutti è un fatto generazionale non c'è tanto quindi che vogliamo fare quello la cosa orribile è la cosa che è successo ovviamente e questo giocare coi sentimenti della famiglia coi sentimenti della gente è una cosa orribile spreggevole e lo dico anche per i media che li usano per fare audience è una cosa spreggevole perché gli stessi media li fanno parlare ma certe cose non le dicono non so se sono più o meno spreggevoli degli altri certo fanno parte del sistema e il sistema è un sistema spreggevole dal quale noi crescendo ci dobbiamo allontanare io dico sempre noi dobbiamo costruire un mondo parallelo diverso senza nemmeno eh intromissioni o compromessi con questo vecchio mondo di finanza di banche di politica di religioni vecchie noi dobbiamo fare un'altra cosa un'altra cosa nostra individuale in cui tutti ci scambiamo cose buone invece di essere intenti in questo azzannamento reciproco li dobbiamo mollare ci stanno dimostrando come non si fa e qui c'è il cielo che ce li fa mostrare come sono così noi quanta gente ha cambiato medico tant'io io ad esempio l'ho cambiato questo è l'aiuto del cielo che ci mostra come erano quanta gente cambia bucato no no ma guarda che hai detto adesso una cosa importantissima nel senso che proprio con più conosci ed è qui il salto che molti in molti dobbiamo fare cioè se non conosci appunto non vedi non puoi poi avere la reazione che è quella che dice fausto cioè creare non stare lì a sbraitare ma creare l'alternativa è inutile perdere tempo ad odiarli perché sono dei poveri disgraziati perché ci hanno qualche vita meno di noi per dirla chiara perché ci hanno ancora delle immaturità enormi quindi se noi ci concentriamo sulla rabbia su di loro spreghiamo energie che invece dovremmo adoperare per fare noi qualcosa di buono io per questo ce l'ho molto col mondo del complottismo i complotti esistono io li ho vissuti intensamente quindi esistono ma non si può aspirare solamente a guardare i complotti che poi chi fa i complotti ti alimenta anche l'odio dando di informazioni sui complotti che fa così ti tiene bloccato ipnotizzato va tutto male invece di fare tu il bene dove sei questo è il grande dobbiamo cambiare mente cambiare mente cambiare atteggiamento mentale e uscire anche dal dallo stare male perché quando tu odi vedi tutto nero venire pure la famiglia vedi nero il tuo lavoro vedi nera la vita non ti godi gli alberi le piante gli affetti perché tutto nero tu alimenta le parti buone datti da fare e metti i raggi dal cuore invece di fare la luna che si prende i meteoriti che fanno male non è un caso questo mi ci ha fatto pensare l'amico paolo quando diceva guarda la cioè dove gira più dove gira più i settori più pagati dove girano più i soldi pensiamo al calcio pensiamo al cosiddetto spettacolo al mondo comunicativo mainstream cioè perché proprio in questi settori gira più i soldi sono proprio quelli che tengono diciamo prigionieri tentano di tenere prigionieri le persone le tengono praticamente tutte prigioniere a meno che tu non decida io rinuncio ai soldi cioè io non ne voglio più di tanti perché se tu ti comporti bene e fai il bene avrai certamente i soldi che ti servono per vivere questa è una legge economico spirituale di cui nessuno si cura e quindi tutti pensano che esista solo la materia la materia la compri coi soldi e i piaceri li compri coi soldi in qualche modo allora tutti inseguono per stare bene per avere quello che gli piace più soldi possibile anche al di là di quello che riesci a consumare se c'è 18 illa in giro per il mondo boh ma quando ci vai se c'è più dei soldi che ti servono per mangiare per aiutare per fare ma che ci fai i soldi diventano l'alimento orribile delle parti più basse della tua anima e l'alimento del tuo lato scuro e siccome il lato scuro te li fa piacere ti fa piacere il potere che deriva no la sensorialità che deriva tu non te ne stacchi più è come è una droga è una vera e propria droga dalla quale noi ci dobbiamo liberare il denaro è stato fatto per dare non per essere tenuto adesso nel mio master di politica sto alle ultime lezioni e le dedico alla società del futuro e faccio tutto un trattamento della società del futuro compreso com'è l'economia ideale che non è quella degli economisti complottisti è l'economia fatta da esseri cresciuti perché gli esseri attuali producono questa economia ma l'economia fatta di essere cresciuti è uno scambio totale senza tenersi nulla ma per poter scambiare senza tenerti nulla devi essere se non quello che ti serve ovviamente devi essere maturo interiormente e quindi è lì che bisogna andare ma prima cosa liberarsi dai lacci di questi poteri esterni che ci tengono legati e ingabbiati in questo tipo di sistema sfuggiamo interiormente le nostre azioni a questo sistema e questo futuro futuro che ci attende non futuro che non c'è e non è un caso anche qui che se ad esempio gli ultimi tre anni hanno messo in grave difficoltà economica tante persone io so di tanti che invece che hanno diciamo compresa hanno fatto questo salto che invece sono andati meglio in questi tre anni non è un caso anche meglio che hanno avuto anche sono usciti con iniziative finiva un lavoro ne hanno creato un altro migliore finiva una cosa e dice ma io perché devo ricreare quella cosa ne crea una migliore questo è ma questo è il senso di tutti i travagli della vita e poi se uno va a guardare persona per persona ognuno ha i soldi che gli servono ognuno ha i soldi che si merita se ne avesse di più come li spenderebbe sono persone covinate che hanno visto ne abbiamo sentite no persone che hanno avuto una vincita e sono impazzite oppure è una bomba atomica è una bomba atomica la vincita in chi non la sa usare è già una bomba atomica in chi se ritrova di famiglie no in chi acquisisce potere ha un sacco di soldi io dico sempre che con grave non dico scandalo ma sorpresa dei miei allievi a un certo punto gli dico ma volete sapere chi è che tiene il rubinetto del vostro denaro tutti i giorni c'è chi il diavolo no il diavolo il vostro angelo cioè la vostra guida decide se vi vuole far crescere stringe un po' ve ne da un po' di meno in modo che vi dedicate cose che non sono solo sensoriali o materiali e infatti dico a quelli che saranno davanti a me dico lo vedete noi che stiamo cercando di crescere acquattrini insomma quanto basta però nessuno finisce sotto i punti se il cielo decide rifarvi prendere proprio come andare a sbattere un albero come un tumore come una cosa grossa che vi serve di una vita per reagire oppure può farvi vincere all'otto allora sì che c'è della bomba atomica in casa è strana sta visione economica no non è tanto strana ecco dicevi l'economia è diversa da quella che anche in angica in ambienti alternativi a cosa ti riferisci in particolare che c'è sempre qualcuno che c'è una teoria economica lo dico anche negli ambienti antroposofici e altri allora faccio degli esempi eliminiamo il signoraggio e abbiamo risolto tutto facciamo questa riforma economica e abbiamo risolto tutto eliminiamo il potere della finanza e abbiamo risolto tutto eliminiamo il mercato e abbiamo risolto tutto riprendiamo nelle mani della banca d'italia mettiamo la banca d'italia nuovamente sotto al potere politico e abbiamo risolto tutto ma non funziona così noi riprendiamo la banca d'italia e ridiamo il faccio un esempio gli ridiamo la rimettiamo sotto al ministero ma chi lo guida sto ministero siamo sempre alle solite no è come è successo con il comunismo cioè nulla di male come teoria economica del comunismo però è stata fatta fare guarda caso il primo grande esperimento in russia dove la gente era abbastanza poco matura perché fino al giorno prima erano tutti i servi della club in un sistema feudale e quindi se volete far fallire questa distribuzione equa del denaro perché no poteva anche avvenire la mandava in un posto in cui la gente non era matura e quindi uno stato brutale e quindi una dopo un po' è venuta fuori un'intelligenza che ha controllato il partito che era ricca che faceva quello che gli pareva ma per fare questo teneva tutti sotto schiaffo in un regime del terrore orribile quindi il problema è che va tutto bene io direi che l'economia lasciata libera andrebbe bene se la gente fosse matura il problema è che la gente non è matura i problemi dell'economia diventano dall'immaturità delle persone non dai sistemi economici i sistemi economici sfruttano quelli negativi e l'immaturità delle persone eh certo l'immaturità ancora ce n'è ce n'è molta ci credi tu invece a proposito dei mondi alternativi eh c'è il mondo delle monete parallele baratto noi ne abbiamo sentite tanti in questi in questi anni eh come come li vedi allora partiamo dal baratto bello il baratto preistorico come la dieta preistorica però il baratto c'è un problema visto dal punto di vista spirituale il passaggio dal baratto alla moneta è un'invenzione di iniziati perché gli iniziati inventarono il denaro non perché poi se ne facesse l'uso che ne è stato fatto o l'uso l'hanno fatto soprattutto per l'uso che se ne farà perché qual è la cosa io mettiamo che io ho le galline se voglio comprare un libro di platone devo trovare un editore che gli servono le galline tu che dici? no? eh sì eh certo allora io con ste galline quante cose posso fare? la mia libertà di scambio di arricchimento anche personale e anche di esperienze si riduce brutalmente ma te l'immagini la gente che ti prende all'aeroporto con l'aereo che si presenta alla cassa con le galline i polli le patate che ne so un quadretto a me mi è venuto questo allora quindi il denaro fu creato come strumento di libertà e quindi verrà usato bene quando la libertà la useremo in direzione del bene ma fino a che lo usiamo per predare ed uno contro l'altro e per i vizi è chiaro che ne esce fuori un sistema economico sbagliato e il denaro sembra lo sterco di satana però guarda che succede quando la gente comincia a usarlo bene può anche dire io vado a comprare so che mi costa un po' di più ma voglio alimentare questo qui che fa il bio che fa i polli bio le uova bio gli costa di più ma io lo voglio alimentare perché mi fa piacere e poi non ho bisogno di tutte queste quantità mangio un po' di meno mangio buono per dire no? alimento questa nuova scuola parentale in cui non ci sono gli orri di programmi del ministero dell'istruzione è l'alimento quindi noi abbiamo cominciato a fare questa cosa questa è la nuova economia ma è un'economia che deve essere consapevole non solamente consumistica più consumo le cose buone più alimento una società nuova e buona questo è questo è il baratto le monete alternative io ci sono stato in mezzo con i primi che le facevano le ho anche diffuse lo Scheck mi ricordo te lo ricordi lo Scheck tanti anni fa? sì sì mi ricordo il fondatore veniva a fare i seminari con me quando facevi i seminari di economia c'era una parte che faceva Galloni una parte la facevo io e una parte la faceva il fondatore dello Scheck Paolo no? allora il problema è che in pratica non funzionava perché nella pratica la gente non si fidava e quindi tu se facevi la lista di quelli con i quali potevi comprare qualche cosa con gli Scheck erano tutti massaggiatori un po' di questo un po' di quest'altro cioè per costruire una casa non lo trovavi uno per riparare la macchina non lo trovavi uno anche qui si scontrava andava benissimo ma serviva una società più matura quindi con una società più matura una cosa anche ideale bellissima come la moneta alternativa libera purtroppo non funziona il problema vero che io mi sono posto tanti anni fa e mi sono detto invece di trattare direttamente come riformare la politica dal punto di vista spirituale probabilmente bisogna riformare le coscienze altrimenti qualsiasi cosa non funziona e per quello mi sono dedicato a quello vedi siamo partiti dal Vaticano siamo finiti alle Galline al Bagatto e allo Scheck e Massi ci piace così è tutto uno Coscienze in Rete Coscienze in Rete è il sito che è da seguire sempre e anche insomma se volete avvicinarvi anche ai corsi di Fausto credo che sia un percorso da fare io lo ringrazio Fausto ci vediamo tra quattordici giorni e buona giornata grazie a tutti ciao Fabio grazie a tutti grazie a tutti